Il discorso dei Gesuiti Il discorso dei Gesuiti Il discorso dei Gesuiti Il discorso dei Gesuiti E quindi il lavoro che ci attende è ben più lungo dei 30 anni che ci abbiamo messo per portare avanti la struttura attuale del santuario. Il convegno questa giornata voleva piantare nella profondità del tessuto di Urbino questa solida prima pietra. Io lascerei la parola a Monsignor Tani al quale molto, moltissimo dobbiamo. Se siamo qui oggi è grazie alla sua paterna vicinanza e al suo desiderio che questo momento avvenisse. Ed è giusto che gli cediamo la parola. Grazie. Come è stato accennato prima siamo al termine dell'anno giubilare della misericordia. Proprio domani si concluderà a Roma e oggi ci siamo fermati a riflettere, a ripercorrere alcuni aspetti, alcuni tratti della vita di un sacerdote che è stato apostolo della misericordia. Perché, come è stato detto, ha fatto in modo particolare del sacramento, della riconciliazione, il suo punto forte sia prima dell'ordinazione sacerdotale sia dopo. Qui è stato appena accennato, forse non tutti l'hanno capito, queste famose missioni di Don Elia quando riceveva un'ispirazione ad andare anche lontano, anche prendere il treno per andare in Sicilia perché là c'era da richiamare qualcuno alla conversione. Lui partiva, non sapeva dove, non sapeva chi, arrivava, doveva superare le difficoltà perché quelli non volevano accoglierlo e lui insisteva, insisteva finché lo facevano entrare. Io ho qui presente l'episodio di due giovani, una ragazza, lei incinta, che voleva abortire e Don Elia non era don e va da loro e li richiama, piange con loro, prega con loro e cambiano l'indirizzo della loro vita e delle loro decisioni. Di questi fatti ne sono successi, dunque lui si è sentito veramente strumento di una misericordia di Dio che come è stato detto in questo anno ripetutamente è la manifestazione centrale di un Dio che vuole raggiungere tutti, vuole portare a tutti il suo amore, la sua presenza, vuole gioire per il ritorno di tutti. E dunque celebrare oggi questo convegno al termine di questo anno della misericordia mi pare che sia un segno molto significativo. Quando abbiamo deciso la data e ci siamo orientati su questo giorno c'era anche questo motivo particolare della conclusione dell'anno della misericordia. Abbiamo sentito molte cose, io so per averle sentite che se ne potrebbero raccontare tante altre e anche di più su Don Elia e tuttavia come è stato accennato fondamentalmente noi dobbiamo procedere con un atteggiamento di discernimento cioè di capire progressivamente con la luce che il Signore ci dà, di capire progressivamente il percorso di questo uomo, di questo sacerdote e di capire se coincideva sempre con la volontà di Dio. Questo è ciò che compete a tutti noi, che in modo particolare compete alla Chiesa che dovrà un giorno dire una parola su questa figura di Don Elia. E io certamente come vescovo di questa diocesi che ha la competenza su questa figura, cioè la competenza, veramente se si dovesse aprire un processo di beatificazione la competenza sarebbe in primis del vescovo di Fano. Ma lasciamo il tempo, vediamo cosa fa a maturare il tempo su queste cose. Però certamente oggi qui come vescovo ho la responsabilità di procedere con un discorso che esprima un processo di discernimento, che esprima non tanto la conclusione di un discernimento quanto piuttosto un processo di discernimento su questa figura. Quindi non potrò esprimermi in termini espliciti come dire Gesù ha detto a Don Elia, è giusto che si dica, ma la Chiesa, e io rappresento la Chiesa, prima di dirlo deve fare un profondo discernimento. Con questo non voglio dire che nego, voglio dire che sto facendo un discernimento e che l'incontro di questa mattina, come tanti altri incontri che ho avuto e tante altre occasioni che ho avuto di approfondire, non mi allontanano da un discernimento che mi fa dire ecco il Signore ha condotto questo uomo, anzi mi avvicinano. In modo particolare voglio ringraziare Don Carlo perché con la sua esposizione ci ha fatto capire che ciò che Don Elia ha visto, e noi abbiamo visto anche l'immagine di uno dei suoi racconti, della sua, di quello che lui dice di aver visto, abbiamo sentito il tono della sua voce, il suo modo di parlare, che a prima vista per chi lo vede per la prima volta può anche sorprendere perché è veramente anche molto semplice, e anche molto preso dentro questa esposizione. Voglio dire che può anche manifestare un atteggiamento umano, un carattere che non immediatamente attira un'approvazione, perché questo può essere, quando l'ho sentito io la prima volta, non mi pare che fosse nell'immagine, mi pare che fosse soltanto nel suono della parola, ho detto oddio, qui chi è, cosa dice, e poi si entra dentro. Vi sto raccontando il mio processo personale. Allora ringrazio Don Carlo perché con la sua esposizione ci ha fatto capire che i vari elementi di questa visione non sono unicamente frutto della immaginazione di Don Elia, ma che corrispondono a quelle caratteristiche che troviamo nella Bibbia, caratteristiche che Don Elia non poteva conoscere perché Don Elia non aveva questa preparazione e dunque ci ha fatto capire Don Carlo che c'è qualche cosa nella visione di Don Elia che corrisponde a un'oggettività al di là del suo modo soggettivo di, e questo è veramente importante come elemento. Che cosa mi guida in questo discernimento sull'opera, sulla vita e su questa eredità del santuario che Don Elia ci ha lasciato? Il primo pensiero che mi guida, considerando tutto, è quello che dice Paolo nella prima lettera ai Corinti quando dice che quello che è stolto per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i sapienti, quello che è debole per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i forti. Don Elia era un analfabeta, sapeva leggere, non sapeva scrivere, si scriveva, si sforzava di scrivere, ma se voi leggete quello che scriveva e come lo scriveva rimanete stupefatti, cioè degli errori di ortografia, di grammatica, di tutto, e poi non sempre risultava poi chiarissimo quello che, ma non è questo l'aspetto, è proprio la sua impreparazione culturale. Ed era una persona semplice che a prima vista poteva sembrare sempliciotta. Tuttavia, noi siamo qui a parlare di lui. Siamo qui a parlare di lui non come di una persona del passato, semplicemente, ma siamo qui a parlare di una persona che ha una eredità spirituale presente e ha un segno concreto quale quello di un santuario che si sta costruendo. E dunque, perché tutto questo, poi abbiamo sentito delle testimonianze, perché tutto questo grande, questa luce di fede, questa grande indicazione su una strada di fede, ci viene da un uomo così, umanamente, culturalmente così piccolo, proprio per le scelte del Signore. Il Signore si compiace di scegliere persone piccole, semplici, umile, impreparati, persone che dal punto di vista umano non hanno un apprezzamento da parte dei criteri del mondo, si serve di loro per compiere ciò che il Signore vuole compiere. Questo è un primo elemento di discernimento che mi guida. Un secondo elemento di discernimento viene dal Vangelo dove Gesù parla dei frutti e in modo particolare dice che ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Io in questi anni sono stato attento a capire, e sono tuttora attento a capire i frutti. dell'opera di Don Elia, per capire se sono questi frutti buoni e come ho detto anche in altre occasioni, soprattutto a Cividate, ciò che seguo e ciò che mi attira particolarmente la mia attenzione è vedere in coloro che hanno conosciuto Don Elia e che sono determinati a portare avanti la sua opera, vedere in loro delle persone che mi danno un segnale positivo per quanto riguarda la fede, per quanto riguarda l'umanità, per quanto riguarda l'equilibrio per quanto riguarda la serietà e la responsabilità e dunque sono persone che mi fanno riflettere e mi fanno dire beh qui c'è qualche cosa su cui io mi devo fermare, su cui devo porre la mia attenzione perché non possono venire dei frutti in questo modo da una partenza che non sia positiva, da una radice che non sia positiva. Anche loro sono per me mediazione alla persona di Don Elia perché allora io supero quelli che potrebbero essere i miei primi impatti, le mie prime emozioni nel contatto con lui per dire al di là di quello che io posso immediatamente percepire, ho dei compagni di viaggio che mi fanno pensare che devo andare oltre e capire una sostanza molto più grande rispetto a quello che io immediatamente riesco a cogliere in base a simpatie o meno. L'altro segno, l'altro frutto buono è che è questa opera, questo santuario che è al centro del nostro convegno almeno accanto alla figura di Don Elia e sì un po' se ne è parlato, ringrazio l'ingegnere che ce ne ha parlato, qualche accenno è stato fatto e probabilmente si dovrà approfondire ancora di più questo aspetto. C'è sempre questa domanda perché qui, perché Urbino, il dottore prima ci ha dato una risposta che è una buona risposta e tuttavia io penso e spero che queste risposte arrivino sempre di più alla gente, soprattutto la gente di Urbino si allarghi sempre di più questa convinzione di un qui e ora che hanno un significato profondo. Questo santuario non è che sia stata messa soltanto la prima pietra, come tutti possono vedere almeno esternamente è un santuario finito e tutti chiedono quindi che cos'è questa chiesa e quindi devono venire a sapere che si sta lavorando da tanti anni che dentro non è finito per niente, comunque chi lo vede fa le fotografie a una chiesa che è conclusa. Ecco io penso che una chiesa che raggiunge questo livello di costruzione non possa essere così frutto soltanto di una fantasia, deve appoggiare su qualche cosa di solido anche questo, altrimenti tante energie economiche e tante energie di ogni genere non arriverebbero a essere spese in questo modo. Allora io credo che anche questo santuario sia un segno buono che ci viene dalla eredità di don Elia. Anch'io penso, anch'io credo che questo santuario sarà portato a termine, i problemi non mancano, gli inceppi sono continui, sono continui, quando si pensa di essere arrivati già alla conclusione si è un po' rimandati indietro, poi si va avanti, però io penso che si possa concludere tutto questo operato e mi trovo a sfidare don Elia e il Sacro Cuore a dire se è vero voglio vedere da parte tua, lo devi dimostrare. Ecco io mi trovo a fare anche questa preghiera per dire come mi trovo in un processo di discernimento che vi ho raccontato, che vi ho detto. Bene, allora le conclusioni di questo convegno sono queste che vi ho detto, dobbiamo accogliere l'eredità spirituale di don Elia che ci è stata manifestata molto bene dai due testimoni che ci hanno parlato, don Gianni e Umberto. Accoglierla perché loro ci hanno trasmesso uno spirito che è venuto loro a contatto diretto con don Elia. Dobbiamo approfondire l'opera di don Elia e credo che un esempio di questo approfondimento ci sia stato dato in maniera molto forte da don Carlo. Il lavoro deve continuare, come è stato detto, tutti noi siamo coinvolti in questa opera, non fosse altro che pregare il Signore perché tutto può pregare il padrone, lo chiamava così, chiamiamolo anche noi così, che tutta questa opera possa essere manifestazione non tanto della santità di don Elia quanto della gloria di Dio che si è voluta servire di don Elia e preghiamo anche che tutto possa essere concluso. Io nella mia fantasia sogno il giorno in cui tanti studenti potranno usufruire di questo dono. Grazie. Grazie. Grazie Monsignor Tani, poi i ringraziamenti personali a dopo. Vi chiedo solo un minuto di pazienza per gli avvisi finali. Voi avete trovato sui vostri sedili dei fogli che vi pregheremmo di compilare con i vostri recapiti telefonici e domiciliari anche al fine di essere contattati per eventuali vostre testimonianze in merito ad un Elia. La giornata è stata organizzata dall'associazione Amici di Don Elia Bellebono di cui la professoressa Laura Guerra che io conosco da circa un pochino di anni è presidente. Uno dei compiti dell'associazione è raccogliere la documentazione materiale a supporto di una futura eventuale apertura di processo di beatificazione di Don Elia Bellebono. Quindi vi chiediamo la vostra disponibilità ad essere contattati per questo. All'esterno troverete un banco libri con l'autobiografia di Don Elia scritta da Umberto Callegaro e anche l'opera, il libro che è stato scritto dal gesuita padre Carlo Colonna e fra l'altro alcune copie, non moltissime in verità, del DVD parte del quale voi avete visto proiettare nel corso della mattinata. Nel salone ultima notizia, devo ringraziare, permettetemi, gli amici della mia fraternità che ci hanno supportato in modo direi generoso e offensivo. Nell'attuazione tecnica di questa giornata vi assicuro che non è stata una cosa semplice, quindi a loro devo un ringraziamento particolare. Io vi ringrazio per la pazienza, per l'attenzione e per la vostra fedeltà a quest'opera. Grazie e buon ritorno a casa.